Venivano allevati in modo abusivo all'interno di un recinto fatiscente, senza copertura e pieno di fango, liquami ed escrementi. Era qui che vivevano 73 suini scoperti dal corpo forestale di Pesaro e dal servizio veterinario dell'Asur. Il personale intervenuto a Colombarone nel Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo ha scoperto che questi animali si trovavano in condizioni di forte criticità e che non erano stati registrati né tantomeno sottoposti ai controlli sanitari. Oltre a questo sono stati riscontrati diversi leciti penali, come per il deposito incontrollato di rifiuti speciali e l'abbandono di liquami zootecnici. Si ipotizza inoltre il reato di maltrattamento di animali. Per verificare la compatibilità dell'allevamento con le norme igienico-sanitarie e di benessere dei suini, il Dipartimento di Provenzione e Servizi Veterinari di Fano ha chiesto al sindaco competente l'emissione di un'ordinanza di sequestro. Sull'argomento, il comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Maurizio Cattoi, ha dichiarato che l'operazione è stata portata a termine anche per garantire la sicurezza alimentare, a tutela sia dei consumatori che dei tanti allevatori che operano correttamente nel rispetto della legge.